Buongiorno a tutti e a tutte amici e amiche di VolonWright, siamo qui al convegno giornalismo e disabilità, dove è la notizia per i dieci anni della nostra associazione. Siamo in compagnia della dottoressa Roberta Del Bosco, responsabile dell'area welfare e territorio della fondazione CRT, che noi conosciamo bene. Buongiorno dottoressa, grazie di essere qui con noi. Le farei direttamente una domanda un po' aperta, chiedendole come la fondazione CRT ha deciso e come fa a investire nel campo sociale, in particolare sul tema della disabilità. La fondazione CRT è operativa su Piemonte e Valle d'Aosta con progetti nell'ambito sociale da moltissimi anni, da moltissimi decenni. Da sempre ha sostenuto progetti che riguardano l'inclusione e tra questi i progetti che riguardano la disabilità, in particolare con il bando Vivo Meglio e con iniziative che in questi ultimi anni cercano di portare il tema dell'inclusione in ambiti diversi da quello che è il sociale. Per esempio l'ambito culturale, per cui abbiamo sostenuto la formazione degli operatori museali perché siano preparati all'accoglienza di persone con diversi bisogni nella fruizione delle attività culturali. Il sostegno è dato sia agli enti del terzo settore, quindi a tutto l'apparato sociale, privato sociale, non solo, che opera nell'ambito dell'inclusione, convinti che tutti abbiano gli stessi diritti. E quindi anche le persone con disabilità hanno diritto non solo di fruire di servizi, ma di farne parte. E questo è quello che ci ha convinto anche a sostenere l'attività di World Right. E la fondazione è come un soggetto che partecipa alla costruzione di un sistema di welfare, direi? Direi di sì, ne siamo parte anche come enti intermediari fra quello che è la società e quello che è politica. Aiuta a far dialogare tutti su uno stesso tema, anche forse in un ambito più indipendente come quello che può essere quello delle fondazioni di origine bancaria. E' di aiuto per tutto il terzo settore, non solo, e lo sta aiutando anche in questo cammino di trasformazione. Le chiedo un'ultima domanda. Cosa vuol dire per CRT essere qui oggi a partecipare a questo convegno? Intanto celebrare un compleanno, celebrarlo tutti insieme, ma non soltanto per evocare una storia, ma per dare il lancio anche a quello che possono essere le attività future, anche di collaborazione, tra World Right e la fondazione CRT. Per sostenere sempre di più l'idea che i servizi debbano essere fatti con professionalità, da persone che ne sanno, e quindi mi sembra che World Right abbia molto da dire, e con l'idea che i progetti debbano crescere nell'inclusione. Quindi persone con disabilità e ragazzi, diciamo, normodotati, tra virgolette, possono collaborare e parlare e diffondere l'idea che comunque bisogna anche trasformare la visione del tema dell'inclusione e loro possono farci molto. Ringraziamo la dottoressa e la fondazione per il suo lavoro costante e supporto proprio in questo lavoro di inclusione. Le auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Grazie.